Non è? Ma? No, rifiù. E che è? Ma mi sa che è una stracassina. Aspetta, non è? Eh, eh. Io vi dico che non è. Ma dai, ma che sei proprio? Tutti hai visto proprio cervelleno, cervello. Questa è la stracassina. Ma perché non c'è un'indicazione? Ma state via perché la sa. Ma, voglio un modo uccidermi chiaramente. Mamma mia. Sai da quant'anni me ne sei scappato? Dino, io sono venuto una volta. Ma state zi, ma se lui la sa la strada. Guarda, io in Patagon me ne sei scappato. Ma ma che ti volevo a te come marito, non io come marito. Ma, no, è centrato. Ma vaffanculo, vai. Salve. Questo è il salone, quello della Versana. Ah, ha messo il cancello. Ha messo, ha fatto la strada. Non c'era nulla. Ha fatto tutto quello. No, è strassissima. Stava riducendo a voi. Ah, vedi? Tra la struttura. Beh, guarda. Sta aggiustando, non è finita. Sta in costruzione la casa. Sta in costruzione la casa. Ma...